Si è tenuta a mercoledì scorso la prima riunione del neoeletto consiglio direttivo della Proloco di Fano che rimarrà in carica fino al 2026. Giacomo Grandicelli, ragioniere 46enne già noto nel mondo dell'associazionismo, è stato eletto presidente, prende il posto di Massimo Macor. Abbiamo eletto il nuovo consiglio direttivo, io purtroppo per mie questioni personali e anche lavorative mi vedo costretto a lasciare perché non ho più il tempo da poter dedicare a una associazione che merita una certa visibilità, cosa che io non potevo più dare. Sono stati due anni importanti naturalmente che mi hanno anche formato perché io venivo da una piccola associazione di quartiere, ero consigliere e sono tuttora consigliere della Viviamo Centinarola, è stata un'esperienza importante che Gino e tutto il consiglio hanno voluto regalarmi e quindi io per onestà devo dire che non ho più il tempo da dedicare come potevo fare prima. In ogni caso rimarrà all'interno dell'associazione, quali sono le altre novità? Beh, le altre novità sono che l'associazione naturalmente si è iscritta, è diventata un ente del terzo settore, è una piccola variazione ma diciamo si chiama Proloco Fano, Fano Fortuna, APS, associazione di promozione sociale con personalità giuridica. Abbiamo voluto fare questo passo di creare la personalità giuridica all'associazione anche per sgravare un attimino dalle responsabilità il Presidente, in primis e anche tutto il consiglio direttivo. Tra le altre novità l'ingresso nel direttivo di tre consiglieri, Livio Mencarelli del Circolo Albatross, il presidente del Vespa Club Flavio Pizzichelli e il vicepresidente dell'ente carnevalesca Luca Caldarelli. I subentrano a Sabatinelli, Casise e Luca Fabri, quest'ultimo tra i fondatori della Proloco nel 2013. Un rinnovo nel segno della continuità, come ha precisato Macor, visto che 12 consiglieri su 15 previsti per statuto sono stati confermati. Giacomo, da vicepresidente a presidente, come ha accolto questa nomina e quali sono i suoi progetti? Mi sono messo in gioco, quindi la cosa sicuramente è emozionante, perché anche se come vicepresidente chiaramente conosco molto bene la realtà della Proloco e tutti gli eventi che vengono fatti e che sono stati fatti in passato, però chiaramente, e che verranno fatti anche in futuro, però in linea di massima un conto da vicepresidente, un conto da presidente, dove ci sono da fare delle scelte importanti e quindi anche valutare di per sé tutto quello che c'è da fare. Gli obiettivi, vabbè, innanzitutto visto e considerato che sembra che il periodo di pandemia stia finalmente scemando, l'obiettivo è quello comunque di riprendere gli eventi più importanti che sono stati fatti o organizzati dalla Proloco. Tra questi la Fano dei Cesari, in programma nel mese di luglio, per la quale sono ancora da definire le modalità di svolgimento, in gir per Fana ad agosto e poi gli eventi legati al Natale. Approfitto a questo punto anche per fare gli auguri al tutto il nuovo consiglio, in particolar modo le nuove cariche sociali che sono l'Anna Maria Montefusco come vicepresidente, abbiamo Massimo Macor che rimane comunque nell'organico come segretario e Gino Bartolucci come tesoriere.